Salve, sono Federico Lacivita, responsabile IT per i processi di sales e marketing della Fater SPA. Sono qui per parlarvi del Coding Bag. Perché nasce il progetto Coding Bag? Perché la Fater SPA vuole parlare direttamente alle proprie consumatrici utilizzando dei canali digitali come gli SMS, il web, ma anche la telefonia tramite call center automatici. Ma è per superare poi problemi legati alla falsificazione delle prove di acquisto tradizionali. Che cos'è il Coding Bag? Il Coding Bag è innanzitutto un codice univoco di 16 cifre stampato all'interno di tutte le buste di tutti i prodotti Fater. Ogni codice individua univocamente la singola busta e da qui il nostro prodotto. È un codice non falsificabile e digitalizzabile perché può essere comunicato alla consumatrice via SMS piuttosto che sul web o utilizzando un tastierino di un telefono. Come lavora? Sostanzialmente siamo partiti facendo DB Building attraverso attività svolte dal sito Linus piuttosto che dal sito Pampers o attraverso concorsi via SMS. Quindi contattando successivamente le nostre consumatrici via newsletter, via SMS, invitandoli a partecipare a nuovi concorsi. La consumatrice invitata può recarsi nel punto vendita, acquistare una confezione di un prodotto Fater e inviare la sua partecipazione al concorso attraverso utilizzando il codice. Questo tipo di attività ci hanno permesso dal 2009, anno in cui è partito il Coding Bag, di decuplicare il numero di iscritte al Club Linus, di velocizzare enormemente l'attivazione di concorsi e promozioni e di passare da una redemption per concorso da un 4-7% fino ad un 20%.